Una tappa in via Rocca Bernarda a Roma per il ministro della giustizia francese Enrico Dupont Moretti nell'ambito della sua visita in Italia, accompagnato dalla ministra della giustizia Marta Cartabia in due ville confiscate al clan de Casamonica e dal parco della legalità. Una visita congiunta con la ministra dell'interno Luciana Lamorgese ed il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti. La visita nelle stanze che furono ostentazione di sfarzo del clan come in queste immagini di repertorio girate durante l'intervento delle forze dell'ordine. Spazi ora riconquistati grazie al lavoro della regione Lazio per la collettività ed il quartiere come il polo multifunzionale sull'autismo ed altre strutture. Un passaggio inedito delle istituzioni nella periferia della capitale nell'ambito di un incontro di alto livello tra Italia e Francia per mostrare dal vivo parole della guarda sigilli cosa significa la restituzione al territorio delle ricchezze illecite tolte ai clan. Una forma di risarcimento, il commento della ministra dell'interno, per le comunità più colpite dai fenomeni mafiosi.